Ups, tutti, 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 mi cari upsini, upsine, come state, come state? Dai, raccontatevi qualcosa, spero però veramente, veramente, veramente bene. Oggi sono qui solo per voi per cui fare questo nuovissimo video che non mi ha dato pochi problemi, vabbè, partendo dal fatto che state vedendo un esemplare di Matteo che non si è fatto la barba e i paffi, quindi ho un po' di pelure in faccia, diciamo. Vabbè, le farò il primo possibile, è che ho fatto altro ieri, quindi non ci ho proprio pensato, mi sono ricordato ieri sera. Poi, non capisco perché le luci, le lucine dietro su sto lato sono più potenti che su sto lato, io boh, pazzerelle. E anche per l'audio non capisco se ho cliccato i tasti giusti perché, non lo so, stamattina pure lì il computer ha deciso di dare i numeri e vabbè, come sempre, le cose brutte solo a me capitano. Vabbè, ad ogni modo, sono qui per fare un video molto semplice, il cui suono principale, diciamo, sarà quello della candelina. A cui accompagnerò appunto un uno o due, non lo so, vediamo, countdown, non troppo lunghi, farò tipo da dieci a zero e darò un po' di baci. Ok, ok, quindi molto molto semplice, nulla di che, quindi, indosso un paio di cuffie o auricolari, stenditi sul tuo letto, sul tuo letto e cerca di dormire, va bene? Ok, cominciamo. Se è tutto, 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 tutto a posto, cominciamo. Allora, quindi prendiamo appunto la nostra candelina. Non avete idea di quanto mi piaccia questa candela? Ma proprio il profumo, ma vogliamo parlare del profumo? Io, scusate, io senza parole. Ok, quindi l'ho accesa. Adesso un attimino che inizia a bruciare seriamente. E ci siamo. Ok. 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 Aspettiamo un attimino perché l'ho appena, 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 appena accesa. Ad ogni modo, ad ogni modo. Possiamo anche partire con questa specie di countdown. Quindi farò appunto da dieci a zero molto, 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 molto lentamente. E darò un po' di pace, intanto. Quindi ti ripartiamo dai con dieci, 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 dieci. Avrebbe già dovuto in realtà iniziare a scoprire un po' di più. Però vabbè ragazzi, questo video è un po' così. Non possiamo farci nulla. Si stanno rifiutando di farlo venire bene. Gli dei dell'ASMR. No dai, scherziamo dai. Nove, 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 nove potete scappare un po' di doppi otto 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 concentrati sul suono della candela ok sette 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 Ascoltiamo adesso un attimino di più il suono della candela, io farò un po' di tongue clicking con qualche visual trigger vicino vicino alla teglia. Ok. Adesso rifacciamo il countdown un'ultima volta secondo me, un po' più velocemente, ma con sempre i baci tra i numeri. Quindi, dieci, uno, zero, dieci, 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 dieci. nove otto sette 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 spero di star facendo giusti i numeri sette 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 quattro scusate scusate un bacio a tutti voi due 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 uno 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 ed infine zero 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 adesso concentrati un attimino di più sul fuoco concentrati sul fuoco concentrati sul fuoco concentrati sul fuoco cu 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 ora tocca solo 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 a te è arrivato il momento di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto cliccando il tasto rosso che trovi qua sotto per entrare a far parte della Ops community di diventare un psino se sei un maschietto invece un psina se sei una femminaccia lascia poi un like se il video ti è piaciuto e commenta importantissimo dovete sempre commentare sotto un video per supportare il creator che lo ha creato oppure per dare dei consigli su come migliorare fatelo sempre fatelo il video di oggi finisce qui ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente di qua una mia playlist e qua sul bar in basso il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu farai quindi è arrivato il momento di spegnere la candela un po' di fumo un po' un po' di fumo la facciamo qui non mi resta che darti la buonanotte 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 Buonanotte